Firmando un contratto di demansionamento che definisce inidonee all'insegnamento non si rischia di accettare un marchio d'infamia come diceva appunto Gina la lettera scarlata che potrebbe rimanere e compromettere la carriera per sempre? Allora il contratto si può non firmare proprio perché il contratto si deve firmare tra le parti ognuno di noi e di voi ha un contratto non ne deve firmare uno nuovo si faccia fare un ordine di servizio non può il presidente non può sospenderti se no dovrebbe ordinare con un ordine di servizio di firmare un contratto diverso e lì ecco è uno di quei casi specifici di tante cose la cosa che dovrebbero fare i dirigenti scolastici è farti un ordine di servizio quando orienti e darti le mansioni è quello che devi fare se io fossi in un dirigente scolastico non ti farei fare ore più delle 18 ore che sono che sono che sono dovute per contratto però se ci sono dirigenti scolastici che ti dicono ai sensi della nota tu ora io ti colloco in servizio e ti applico il contratto dei docenti in idonei ti faccio questo ordine di servizio tu lo firmi contestualmente metti a protocollo con una rimostranza sia dal punto di vista tuo etico personale sia anche per un eventuale poi azione giuridica fai una lettera di rimostranza la metti a protocollo e sottolinei motivi di contestazione rispetto a questo ordine di servizio sia per quanto riguarda il mansionario sia per quanto riguarda l'orario di servizio poi è importante ho visto questi video e ho sentito anche la testimonianza della maestra e gina guardate che se qualcuno col green pass la legge dice che chiunque può entrare nell'istituto e andare ovunque quindi non si può fare dice la legge didattiche in presenza con i ragazzi non non si può stare a contatto con i ragazzi perché sennò neanche il personale alta ci potrebbe stare e neanche il dirigente scolastico ci potrebbe stare che è il rappresentante di tutta la comunità scolastica perché è il dirigente dell'istituto e ci sono anche dirigenti scolastici che non si sono vaccinati sono stati sospesi sono rientrati in servizio quindi la legge dice che l'attività in presenza con gli studenti la didattica in presenza non si può fare giusto sbagliata costituzionale non costituzionale lo decideranno i giudici ma non facciamo dire alla legge cose diverse da quello che dice dice questo non dice che tu non puoi salutare gli studenti parlare con gli studenti dentro non dice niente di tutta questa scuola dice anzi chiunque green pass base può entrare quindi possono entrare le famiglie possono entrare gli esterni tanto di più può entrare il personale e il essere messo per ordine di servizio in un lu prestare il proprio lavoro in un luogo piuttosto che in un altro se il presidente ritiene e se poi un giudice lo intera che quello che si sta facendo come faceva il collega e nel manzionario dell'insegnante e allora il preside fa bene e il giudice condannerà solo le 36 ore 18 ore suppletive se si dimostra appunto all'interno dell'area di funzionamento e quindi darà un risarcimento come straordinario per quelle ore aggiuntive che saranno state date sempre che il manzionario sia lo stesso se il manzionario non è quello e allora il giudice andrà a risarcire e a annullare quell'ordine di servizio laddove ha fatto ha dato ha fatto fare un manzionario diverso dalla funzione docente perché anche lì la legge non dice che tu dovevi fare delle cose diverse da quelle che fai che sono attività funzionali insegnamento quindi andare in un archivio non è non è attività funzionali insegnamento andare in biblioteca potrebbe essere una delle attività ma a sua volta se tu chiedi di essere utilizzato per andare in biblioteca